Alla sua prima partecipazione alla premia Offenza, Monica Grieczko è stata premiata dai visitatori della mostra Almic con il premio del pubblico intitolato Francesco Fabri e ideato quest'anno per la prima volta. It is almost the truth, il titolo dell'opera maggiormente votata per una mostra che ha totalizzato 27.900 visitatori. Un risultato sorprendente anche per la stessa artista polacca che oggi abbiamo incontrato nel proprio studio. Sono molto sorpresa perché di solito fanno un po' paura, pare, le mie opere, ma sono molto felice. Sono adesso amata dai italiani. Ecco, come mai la decisione di partecipare al premio Offenza quest'anno? Eh, ma quasi di obbligo a Offenza, se lavori in ceramica, anche se non sei ceramista proprio in pieno, è bello avere questa cosa così di largo respiro internazionale. Ed è sempre, cioè, sempre pensavo prima o poi di farlo, poi adesso con la Claudia Casali che è direttrice, un po' spronato così di farlo, è giusto farlo. Adesso lo proverò sempre. Come mai questo titolo? Eh, appunto, potrebbe essere perché l'opera parla di un pericolo di vivere la vita non vera, di vivere le cose virtuali, di vivere le cose che non sono il presente, non sono valide, di vivere come un filmato, come un… e potrebbe essere vero che tutti viviamo un po' non la nostra vita vera, cioè la nostra realtà è molto elaborata da anche nostro passato, nostro futuro, nostre preoccupazioni e molto poco badiamo alla natura, a quello che ci circonda davvero in presente. Ok. A proposito di natura, gli animali sono un tema ricorrente nelle tue opere, come mai? Eh, sono delle creature, diciamo, spesso molto più vicine all'uomo che gli uomini stessi, sono ultimamente spesso le vittime, io spesso parlo per così scongiurare, parlo delle paure e spesso i miei protagonisti sono animali, come appunto in qualche modo le vittime di noi, di nostro sistema schifoso. Come mai la decisione di sposare Faenza come città? Prima è stata la decisione di sposare un italiano che ha vinto concorso e lavora a Faenza, quindi la decisione è stata quella che ci è piaciuta la città, abbiamo trovato opportunità di vivere e di lavorare per entrambi, e la dimensione della città, è quel curioso connubio di un po' di arte contemporanea, un po' di artigianato, un ammasso di architetti e la vita così un po' intellettualoide che si sviluppa gloriosamente.